Veniva a scuola, era in questo asilo, poi tu mi hai detto dopo sei mesi l'ho subito portato via. Sì, allora io ti dico, l'ho portato qua sei mesi fa e in questi sei mesi lui di notte, da un giorno all'altro, in piena notte si svegliava con gli incubi, al che io non riuscivo nemmeno più a calmarlo, non c'era verso, però inizialmente non sapevo che cosa gli stava succedendo, al che ero persinata dalla pediatra, fammi prescrivere uno sciroppo, da dargli prima della nanna in maniera che lui qualche oretta potesse dormirla serenamente. Adesso a distanza di tempo capisco perché mio figlio non riusciva più a dormire. Non si può lapidare qualcuno in piazza soltanto sul dubbio, su delle voci, sull'ho sentito dire, cioè tutti vogliamo il bene dei bambini. Ragazzi prima di condannare qualcuno ci vogliono delle prove, Chi ha avuto dei dubbi e voleva star sereno ha fatto benissimo a togliere i bimbi dalla struttura, perché un genitore deve essere tranquillo, non c'è nulla di più prezioso nei nostri figli, nulla, però non si lincia qualcuno così per sport, perché forse, forse ha fatto qualcosa. Non pensavo che capitassero determinate cose all'interno di questo video, cioè io mi fidavo all'inizio. Non hai mai avuto sospetti? No, assolutamente. Adesso sono due mesi che lo porto in un'altra struttura, io alla sera lo corico da sveglio, mentre gli rimbocco le coperte lui mi sorride. Tu ti senti comunque di difendere le maestre? Soltanto dire che le conosco da tre anni e mezzo, che le ho viste tutti i giorni, che hanno curato i miei bambini, che erano attentissime, si sono accorte di piccoli problemi di tipo dermatologico, cosa del genere. Prima di me, me li hanno segnalati tempestivamente, sono passati due mesi, quindi probabilmente mio figlio qualcosa ha visto, perché altrimenti non riesco a spiegarmi questo. Non le difendo, perché come mio figlio sono tanti altri bambini che hanno avuto dei problemi. Le camere di videosorveglianza, tu dici da tre anni che i miei figli vanno lì, queste camere di videosorveglianza da quando sono state installate, che tu ricorda? Che io sappia da quest'anno, cioè da quest'autunno, dall'inizio di quest'anno scolastico, gli anni scorsi non mi risulta che ci fossero. Loro fanno vedere che hanno le telecamere nelle camerette. Queste telecamere sono state messe soltanto dopo, anche se adesso fanno vedere noi abbiamo tutti i monitor, sono tutti sotto sorveglianza. Prima non c'erano. A luglio le hanno fatte mettere loro probabilmente per tutelarsi. Sono state cautele prese dalle titolari per tutelare loro, chiaramente, se stesse, la struttura e noi. I problemi del bambino sono iniziati da quando ha iniziato a frequentare questo asilo? Sono cominciati non subito, però dopo un po' di tempo, perché poi è diventato anche aggressivo. Lui ce l'aveva in braccio, picchiava, pizzicava, si svegliava, era sempre nervoso. Però subito una mamma non capisce che cosa può avere il proprio figlio. Io ho saputo già dal fatto che è successo, che ne hanno parlato per tutti i giornali, a giugno. E quindi poi sono venuta a chiedere spiegazioni. Con le maestre hai mai parlato, hai mai chiesto spiegazioni? Certo, sì sì, io sono venuta qua con mio marito a parlare, che mi spiegassero del fatto perché i bambini venivano lasciati da soli. E loro hanno detto che assolutamente non è vero che un insegnante si era allontanata solo per pochi minuti.